Oggi presso la città esercito tenente onorato, il comando militare dell'esercito in Sicilia e del Cus Palermo hanno sancito ufficialmente l'inizio del couso del centro sportivo di Bocca di Falco a Palermo. Il Cus Palermo, nella persona del presidente Giovanni Randisi e tutto il consiglio direttivo, ha condotto negli ultimi mesi un proficuo dialogo con il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino al fine di aprire un nuovo ed entusiasmante capitolo per la struttura di via Giuseppe Di Marco. A loro fianco i rappresentanti delle principali autorità del territorio e del settore universitario e scolastico. In concerto con l'esercito, il Cus Palermo si occuperà della manutenzione quotidiana e del programma attività che verrà svolto presso la struttura di Bocca di Falco. Possiamo già annunciare le prime due in scaletta. Il campus estivo, aperto a tutta la cittadinanza, insieme ai figli dei dipendenti dell'esercito, università e utenti Cus Palermo, rivolte ai bambini e giovani sin ai 14 anni, con un programma pienamente inclusivo per i ragazzi diversamente abili. E l'attività delle eccellenze FIDAL Cus Palermo, che guidati dal prof Gaspar e Polizzi, si allereranno a Bocca di Falco.